On list, Daniele Vaccarino, che è Presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa, che vedevo prima scuotere un po' la testa, è stato chiamato in causa più volte dai precedenti interventi. Allora, Vaccarino, la piccola e media impresa, dopo la crisi, ha davvero reagito solo con una compressione dei costi e dimenticando o non riuscendo ad assorbire i principi dello sviluppo sostenibile o invece, come immagino lei ci dirà, ha una sua via probabilmente per questo sviluppo sostenibile? Grazie, grazie dell'invito. Onorato di aver potuto firmare il patto, la dichiarazione di intenti. Sì, scuotevo la testa perché nelle tavole rotonde ci sia qualche forma di contraddizione. Intanto, aver messo qui al centro questo problema è importantissimo per il settore che io rappresento. Penso che proviamo a guardare da un altro angolo di visuale. Intanto, scuotevo la testa quando sentivo parlare che il sistema delle grandi imprese sarebbe il driver che ci impone. Non è proprio sempre così. Ovvero, ci sono grandi imprese con i quali i rapporti di subfornitura sono rapporti di rapporto corretto cliente-fornitore laddove è possibile avviare. Ma ci sono purtroppo invece situazioni molto più complesse laddove il problema spesso è solo il prezzo e basta. A questo aggiungo un altro angolo di visione. Il settore della piccola impresa, dell'artigianato, è un settore che storicamente e culturalmente è vicino al risparmio in sé. Le cosiddette 3R, riduci, ricicla e riusa, sono sempre state fonte di utilizzo da parte di un artigiano, non si buttava via niente. Allora, se partiamo da questa visione, il sistema delle piccole imprese è relativamente vicino a un concetto di economia sostenibile. Certo che si confronta con quelle che sono le problematiche, ovviamente, che riguardano il mercato. Potrei farlo su diversi mestieri, noi siamo suddivisi in Italia, i mestieri sono tantissimi del mondo che rappresento, ma ne prendo due. Il settore agroalimentare, di cui noi curiamo, si può dire, quello che è il concetto della trasformazione, è un concetto sulla quale, per esempio, il lavoro fatto prendendo prodotte a chilometri zero, cercando di attuare tutte le forme sulla tracciabilità della trasformazione del prodotto, è fortemente intrinseco al sistema che noi rappresentiamo. Un altro settore che è stato più volte citato qui, che mi piace riprenderlo, che è quello dell'edilizia e delle costruzioni. Allora, questo è stato un settore laddove un tempo si diceva che quando riparte l'edilizia parte l'economia in Italia. Non è più tanto così. Ovviamente il mattone è forse stato l'investimento più amato dagli italiani, ma anche perché era tra i più redditizi, oggi non è più così, sono cambiati i paradigmi, non si ritornerà mai più al fenomeno pre-crisi da questo punto di vista. Ma anche culturalmente il settore dell'edilizia è un settore che deve abituarsi ad essere assolutamente un settore di rigenerazione urbana, di restauro conservativo e meno di costruzione, come questo è evidente. Ecco, ma anche qui l'utilizzo dei nuovi materiali sono patrimonio di questo nostro mondo. L'utilizzo delle nuove tecnologie sono diventate patrimonio di questo nostro mondo. E tanto per essere concreti anche nei dibattiti, prendo per esempio una delle grandi operazioni che ha fatto il governo rispetto all'introduzione dei bonus che hanno sorretto questo tipo di economia che rischiava di non reggere in una crisi così profonda. Però noi per esempio abbiamo sostenuto una proposta di legge sulla proposta di cessione di credito che riguarda appunto i bonus fiscali riguardanti la ristrutturazione, cessione di credito presso gli istituti bancari, tra l'altro l'abbiamo visionato anche con l'ABI, un'operazione di questo genere se era fattibile o meno. Già c'è ancora in Parlamento questa nostra proposta di legge, noi vorremmo dire che attraverso anche operazioni di questa natura, ne approfitto della presenza del Ministro Galletti, anche attraverso operazioni come questa natura si rilanciano fortemente settori come questi che vanno della direzione dei consumi sostenibili. Allora io credo che da parte associativa, proprio per riprendere un concetto poc'anzi espresso, dobbiamo trasformarci sempre di più in chi dà indirizzi e sostegno sicuramente, ma indirizzi anche le imprese che rappresentiamo che vanno in questa direzione, ecco perché firmare questi appelli, firmare queste dichiarazioni intenti per noi è fondamentale. Rubo ancora un minuto, anzi di meno perché vedo che è scaduto il tempo, solo su di una questione, allora sulla questione della decarbonizzazione del piano energetico, concordiamo, l'abbiamo letto, concordiamo in pieno con quanto detto dal Ministro prima, anzi diciamo mettiamoci anche più coraggio, siamo d'accordo che rischia magari di costare un pochino di più, io tra l'altro volevo anche aggiungere un concetto di rimuovere ancora alcune politiche che ci sono contraddittorie rispetto ad alcuni aspetti, ma non sono più a stressare il Ministro Galletti perché credo che ci abbia risposto sufficientemente in questi anni rispetto alla famosa polemica sulla tracciabilità dei rifiuti, quindi è un episodio, anzi lo ringrazio per il lavoro che ha fatto, però bisogna consultarci tutti su queste questioni, ma forse ricominciare a pensare a qualche misura di sostegno rispetto all'efficientamento energetico, sicuramente non simile a quello che c'è stato in passato che ha magari drogato il mercato, ma che metta in azione nuovamente questi sistemi, credo che possa essere utile per tutti noi. Grazie. Bene, allora prendiamo quest'ultima proposta, io ringrazio tutti gli intervenuti perché mi sembra che ci sia stato un panorama interessante di obiettivi forse non sempre coincidenti sulle singole cose, ma di un obiettivo comune che oggi li unisce tutti nella firma di questo patto, tutto il mondo imprenditoriale, imprese finanziarie comprese, se no Abete si arrabbia.